Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio video per farvi sapere che sto per andare in live Andiamo in live con il coaching gratuito per i subs come al solito E con la visione mia del primo torneo dei easy che io seguirò come coach Quindi il primo team dei easy giocherà un torneo su face it per una qualifica a una lan a Roma E io li seguirò come coach Quindi inizieremo con quello e poi faremo il coaching dei subs Perché è domenica e per chi non lo sapesse io offro un servizio di coaching gratuito A chi è subscribed al canale di hitbox quindi è pseudo gratuito Nel senso bisogna pagare 5 euro al mese se ha la possibilità di venire estratti Altrimenti offro un servizio di coaching a 10 euro all'ora Per chi invece vuole avere la sicurezza di avermi come coach per un'oretta In modo che li rimetta a posto Ho già fatto con un po' di ragazzi Molti sono, tutti quanti sono estremamente soddisfatti Quindi la cosa mi va bene così Noi ci vediamo in live Il link l'ho trovato in descrizione Alle 4 ragazzi Vi mando un bacione Ciao a tutti Adesso sono il re del let's play I want to win I want to win I want to win I want to win I want to win